La malattia Gauchet è un'errore di metabolismo a causa del defecto dell'enzyme, la glucocerebrozidase. È una malattia percorrata da una severa hepatosplenomegali, anemia, thrombocytopenia e fraccia di sangue. La malattia è frequente in Italia. Abbiamo costruito una malattia per ogni 20,000-25,000 cittadini. La malattia può essere presentata in diversi formi. C'è una malattia infantile, chiamata Gauchet tipo 2, una malattia molto severa con una malattia neurologica di deteriorazione. C'è una malattia frequente, chiamata Gauchet tipo 1, caratterizzata da hepatosplenomegali, anemia, thrombocytopenia, fraccia di sangue e lunga. C'è una malattia chiamata Gauchet tipo 3, in cui la forma neuropatica è predominante. In questa forma è stata descrittata, anche con una malattia, chiamata Parenchisonia. La malattia è trattata da diverse terapie. La più frequentata è l'enzyme replacement therapy, che ha dato l'enzyme direttamente per l'intraveno. Ma anche, recentemente, la malattia può essere trattata con una malattia orale, che può ridurre l'effetto del risotto. La nuova terapia è molto importante perché può essere usata orale, invece di intraveno. un altro tema importante per la malattia Gauchet è la prevenzione. Ora è possibile prevenire la malattia con la screnazione neonatale. Cioè, è possibile detectare la malattia con un spazio sangue nel periodo neonatale, dove è possibile mesurare l'enzyme e seleccionare la popolazione dalla popolazione affettiva e dalla popolazione normale. Abbiamo l'esperienza di questo tipo di screni in nostra regione, nel nord-est parte dell'Italia, dove, dal 2015, abbiamo sviluppato questo screni e abbiamo trovato uno neonatale ogni 20,000 nuova. La ultima parte del futuro di questo risotto è che la malattia Gauchet è un risotto di lysosoma, e noi sappiamo che questo è un risotto di genetico e noi sappiamo che nuove genetiche sono possibili. Grazie. Grazie. Grazie a tutti